Musica Avanti il prossimo! Aspettando a lungo che sorgesse il sole Tra il sapore dei miei baci e del caffè Ciao, sono Raffaele Marcello Quest'anno corro in Trident CP2 Il mio sogno è di arrivare in Formula 1 E spero di un giorno di vincere Monza con la Ferrari ovviamente Ciao, sono Luca Ghiotto, ho 20 anni Faccio il pilota da 5 È una forte emozione per me Sei così stiloso che a casa c'era Miuccia Prada che a lui va in segno di rispetto Sono molto eccitato per questa gara e per come sta proseguendo questa stagione Mi piace un sacco Ovviamente il sogno è di diventare un pilota magari in rosso Fantastico E spero nei prossimi anni e mi accontenterai già di fare presente il Formula 1 Luca, assolutamente sì Ciao, ciao!